Bella ragazzi ed eccomi tornato, sono Frax con un nuovissimo video sul mio canale, incredibile! Facciamo ormai come sempre, dato che praticamente ho promesso che in ogni FraxUtime avrei salutato l'ultima persona che su Instagram Il mio nome su Instagram è I'mFrax, I-M-F-R-A-X, I'mFrax Avrei salutato l'ultima persona che mi lascia una notifica, quindi adesso andiamo qui, aggiorniamo le notif- Mi chiamano, pronto? Dicevamo, mi chiamano mentre faccio così Aggiorniamo le feed e l'ultimo a mettermi mi piace a una foto è AntonioC002, trattino basso, che mi piace la foto che ho caricato pochi minuti fa Ecco qua, salutiamo Antonio e niente, possiamo ricominciare con il Frax, incredibile! Arriviamo in oltre a 10.000 like se volete un altro Frax, domani sempre alle cazzo di 19, sempre presente La prima domanda ce la fa Gabriele Asquino Frax, farei uno speciale per i 300.000 iscritti? Assolutamente sì, già ho iniziato proprio da stamattina, tra l'altro, a contattare vari youtuber Perché ho deciso che come speciale per i 300.000 vorrò fare il video uguale, diciamo, al video che era caricato sul mio canale Che si chiamava Tutti riuniti per i miei 10.000 In cui vari youtuber mi mandavano una loro clip di qualche secondo dove mi facevano gli auguri per i 10.000 iscritti Oppure se volevano, insomma, dicevano due parole su di me, sulla mia persona e quant'altro, per quello che mi avevano conosciuto E quindi per i 300.000 avrete un video del genere, che spero che vi piaccia Zax Tderfog Frax, ma come funziona precisamente YouTube? Cioè, cosa si guadagna, chi ti paga? Beh, la Frax si è un cazzo di mito Tanto grazie a te, Zax Tderfog Come funziona YouTube? Cioè, come si guadagna sostanzialmente su YouTube E chi come guadagna su di te su YouTube? Allora, praticamente YouTube è di Google, ok? Quindi, praticamente, se io in un mese Sto sparando cifre totalmente a caso per farvi capire Se a me in un mese, beh, viene venduta pubblicità sul mio canale per un totale di 10.000 euro, ok? Di questi 10.000 euro, il 45%, quindi 4.500 euro, se li tiene Google Quindi 4.500 euro se li intasca Google Di quel 55%, una percentuale che è prestabilita a seconda dei contratti di, insomma, i contratti con un network Che è un'altra società legata a Google, che lega i canali, che avete sentito parlare, la partnership in poche parole Si tiene una percentuale di quel 55% Quindi mettiamo che io abbia l'80% con la partnership Io prendo praticamente l'80% di quel 55%, quindi l'80% di 5.500 euro Il 20% lo prendono invece, lo prende invece il network Più o meno questo è tutto, tutti i magheggi e la cosa dietro A Google, come guadagna Google Con il 45% su ogni canale su YouTube Con la pubblicità, che bello, eh? Francesco Canti Frax, ma l'Itatube si berrà? Allora, fra caro Francesco, ti devo dire che l'ultimo Itatube che abbiamo passato C'era Omiatol con l'estintore fuori dalla finestra Che urlava, sì, che bello, nevica a Milano, ok? Poi c'era Sasha, anima, che stava cagando nel cestino della camera, dell'hotel C'era Zoda, che era ubriachissimo, con tutte sigarette in bocca Che camminava, vagava da solo per l'hotel Mentre fumava, tipo, 15 sigarette insieme Io che stavo buttato sul letto a fare gare di freestyle rap insieme ai Bushwaka E quindi, diciamo che all'Itatube di solito, sì Partiamo con l'intento di bere Anche perché esattamente il sabato sera festeggeremo il diciottesimo compleanno di Klaus, di Tudor E quindi succederà il finimondo, ci distruggeremo male, penso, all'Itatube Planet Gameplay Che veramente da quando l'ho presi per due Facchio Time Ho messo in due video due Facchio Time Ho iniziato a farmi domande E devo essere sincero, sono domande una più figa dell'altra Quindi alla fine una l'ho deciso di prenderla Frax, ma hai mai pensato di darti al prank che ci vediamo molto portato? Ah, ti ci vediamo molto portato Tipo, ci vediamo molto portato Tipo, ci vediamo dopo, capito? Una roba del genere? No Ho mai pensato di darti al prank? Allora, a differenza, insomma, di quello che magari possiate pensare voi Alla fine sono abbastanza timido su queste cose qua Cioè, quando comunque, che ne so, una fiera o roba del genere Non sono per niente timido Perché comunque so chi ho davanti So che siete voi là davanti E so che comunque ci vogliamo bene a vicenda Quindi mi sento a mio agio Però, se dovessi andare a fare un prank Quindi andare da una persona a qualsiasi per strada Sicuramente proprio mi sento, mi sento tipo l'ansia proprio pesante Lo facevo qualche volta quando Omidol stava qui a Roma E registravamo prank, insomma, qui a Roma Tant'è vero che mi era anche capitato di baciare tipo una tipa Una bionda Poi ci ho rimediato uno schiaffo Insomma, durante un prank Era venuto qualcosa di figo Però comunque sono abbastanza timido Quindi non è che farei prank in generale L'ultima domanda ce la fa Pibla Frax, Nike o Adidas, Lamborghini o Ferrari, Bugatti o Pagani, Rolex o Hamilton, Pasta o Pizza, Cotto, Battlefield, Apple o Samsung, Real o Barcellona Bella Frax, sei un grandissimo Grazie Pibla, anche tu sei un grandissimo Insieme a rispondere Allora, Nike o Adidas, tutta la vita Nike Lamborghini o Ferrari Eh, questa è una bella domanda Cioè, io ti risponderei Ferrari Cioè, la mia macchina preferita era Lamborghini Aventador, ok? Però, diciamo che quello è il modello della Lamborghini che mi piace di più Però ci stanno dei modelli della Ferrari Tanti modelli che mi piacciono meno della Lamborghini Ma che, cioè, comunque sono di più dell'unico modello che mi fa impazzire della Lamborghini Quindi Lamborghini o Ferrari è proprio un 50 e 50 Bugatti o Pagani, Pagani, perché la Bugatti c'è un motore della Madonna Ma esteticamente a me non piace, quindi Pagani Rolex o Hamilton, tutta la vita Rolex Pasta o Pizza, Pasta, credo la pasta Cioè, un bel piatto di pasta alla matriciana Penso di dia più soddisfazioni che una margherita, per dire Cotto, Battlefield, Cotto Beh, ci sono cresciuto con Cotto, diciamo Quindi, assolutamente Cotto Apple o Samsung L'ho provato di tutti e due, quindi non mi inizio da cacarcazzo Ma uno è più versatile Apple, cioè, proprio, chi vese in cula Real o Barcellona A me il Real un po' me sta sul cazzo Perché è tipo la Juventus d'Italia Vince sempre e rompe i coglioni Inoltre, Ronaldo, per quanto possa essere il lidolo delle folle Credo che sia, oltre che molto forte, oggettivamente Un po' uno sbruffone, quindi non è che mi piaccia tanto Però, il resto della squadra del Real me fa morire E inoltre, inoltre, c'è uno dei miei giocatori preferiti Che ci gioca al Real Cioè, Tony Cross Quindi, credo, credo Real Direi proprio Real Il Frax può finire qui Grazie a tutti di voi Grazie a tutti voi per essere arrivati fino a questo punto Se siete arrivati fino a qui Fate due cose Scrivete qui sotto Hashtag Frax E fatemi una domanda per il prossimo Frax E poi scrivete un altro commento Con scritto Tappo Così che so che siete arrivati fino alla fine del video Da Frax è tutto Ancora 10.000 like Per un altro Frax Domani alle 19 E sempre da Lamer 5 Da Frax è tutto, signori Bella